Il treno regionale 5924 delle ore 9 e 20 proveniente da Ladova è in arrivo al binario 4 invece che al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale 5924 delle ore 9 e 20 proveniente da Ladova è in arrivo al binario 4 invece che al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale 5924 delle ore 9 e 20 proveniente da Ladova è in arrivo al binario 4 invece che al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla.